Musica Oh calmissimo, non sono comunque pronto a trattare con la mafia, non sono pronto. Non sono pronto, se a voi piacciono i denari che la mafia ruba con gli impianti eolici, state con gli impianti eolici. Io combatterò per il fondo, non sono pronto a trattare con la mafia, in nome della Costituzione, in nome di Cesare Brani. C'è un posto in Italia, agli altri quelli... Sto parlando del libro e di questo anche parla, mi fa che non lo avrai letto nella tua conclamata ignoranza. Sei un ubriacone, sei un ubriacone, sei un ubriacone drogato, sei drogato, drogato morto, sei drogato e ubriaco. E vai all'estato, perché spazia droga, quello sei tu. Drogato, drogato, drogato. Poi, guardiamo il caffone, drogato. Possiamo, possiamo. Drogato, schifoso. Drogato, spazzatore. Spazzatore, drogato. Spazzatore, spazzatore. Spazzatore, spazzatore. Spazzatore, 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 spazzatore. Spazzatore, spazzatore, spazzatore. Spazzatore, spazzatore. Non parliamo del libro. E spazzatore, a casa, il punto è il punto è il punto di essere. Di concerto, per favore. Spazzatore, spazzatore. Abbiamociutato il libro. Parliamo al tema del libro. Sì, stiamo parlando del libro. Perché se vediamo il libro. C'è un posto, in grado, consigliere, appesa gente, non lasciarsi perdere, di visitare, al di là dei tanti luoghi conosciuti, un posto stonosciuto che invece non vi sento aperto. Siamo in sociaio, ma vi calmo per non perdere l'occasione di visitare. No, scusate, ho un ruolo nel quale non mi sono mai trovata. vi chiedo la cortesia di mantenere un livello di inospitalità e ritorniamo a tornare nel libro per tutti. vi chiediamo sentando la risposta alla domanda che il direttore ha fatto. voi probabilmente non conoscete scarpe. Se fate così, lo invitate a noi. Lo invitate a noi. State in carni. Fatelo parlare.